Dottor Mariani, come pediatri di famiglia siete chiamati a dare il vostro contributo nella campagna per il papilloma virus, è importante vaccinarsi? La regione toscana ha stabilito un open day, come abbiamo fatto per il covid e come abbiamo già fatto a giugno per il papilloma, un giorno in cui le persone potranno andare negli ambulatori dei pediatri di famiglia e negli uffici vaccinali proprio per vaccinarsi a naturalmente quelli che non l'hanno ancora fatto quindi l'indicazione è proprio quella di andare negli ambulatori per fare questo vaccino Il papilloma virus è un virus che è assolutamente ubiquitario nel senso che praticamente tutta la popolazione al 100% può andare incontro all'infezione che può essere asintomatica e come può essere sintomatica Nel sintomo ci sta tante cose, quindi è una malattia infettiva che ha però una caratteristica molto, come dire, seria perché la malattia infettiva può scatenare poi la malattia oncologica quindi con l'andare del tempo quindi è fondamentale fare la vaccinazione dei soggetti in età prepubere quindi già da dieci anni in poi è importante vaccinare sia maschi che femmine addirittura da scheda tecnica il vaccino adesso si può fare sopra i nove anni quindi noi consigliamo assolutamente di fare questa vaccinazione prima possibile perché le risposte immunitarie al vaccino sono molto migliori se le facciamo intorno a dieci anni, dieci undici anni grazie Grazie a tutti